Questo libro è dedicato alla separazione che deve esistere se vogliamo star bene tra la mia mente che pensa e il dolore che provo quando arriva il disagio. Ci deve essere una separazione. Quindi la vera domanda è adesso sto soffrendo, io ci sto ragionando su? Se ci sto ragionando su il disagio aumenterà. Sto cercando la spiegazione, il disagio aumenterà. Vi parlo del libro Mai ragionare sui tuoi disagi che troverete legato a Rizza. È un libro in cui tengo molto perché si basa su un elemento determinante per la cura dei nostri disagi, dei nostri problemi. Imparare l'assenza del commento. Si è formata un'idea piuttosto malata che noi dobbiamo capire perché stiamo male. Dobbiamo capire perché soffriamo. Dobbiamo capire perché lui o lei se ne sono andati. E così continuiamo a pensare, a ragionare sui nostri disagi, non comprendendo che il ragionamento, il pensiero, appartiene a un'energia che non soltanto soffoca la nostra interiorità, ma incolla il pensiero al disagio e quindi lo rende cronico. Il pensiero non è creativo. Groder diceva Nessuna mela è mai maturata grazie al pensiero. E bisogna capire una volta per tutte molto bene che ogni volta che pensi tu stai immettendo un'energia statica sulle emozioni, sui sentimenti. Il pensiero è fatto per altro. La logica è fatta per altre cose della vita. Non per ragionare sugli affetti. Finiamo per cronicizzarli. Schopenhauer diceva che quando io guardo un oggetto più lo guardo da vicino più il mio occhio è tutto immesso nello sguardo di quell'oggetto più in qualche modo si forma una cecità. Così quando c'è un problema, un disagio continuare a guardarlo, a pensarci su, a ragionarci finisce per farci vedere solo il disagio e quindi cronicizzarlo. Questo libro è dedicato alla separazione che deve esistere se vogliamo star bene tra la mia mente che pensa e il dolore che provo quando arriva il disagio. Ci deve essere una separazione. Quindi la vera domanda è adesso sto soffrendo io ci sto ragionando su se ci sto ragionando su il disagio aumenterà sto cercando la spiegazione il disagio aumenterà sto vedendo nel disagio il mio modo per criticarmi per errori che ho fatto il disagio aumenterà sto giudicandomi mentre provo un disagio il disagio aumenterà ecco in questo libro io ho cercato di riassumere le cose fondamentali da fare quando si soffre vedete c'è un'identità nascosta profonda potremmo dire che è come il seme della pianta il disagio viene spesso per dirti guarda che la donna o l'uomo che sta soffrendo sta soffrendo per qualcosa che viene giudicata personale i problemi personali non sono che i problemi del nostro io cioè del lato di noi che è identificato col mondo esterno vede dottore da madre devo dire no signora da madre se lei parla da madre ha una visione del mondo da madre da donna abbandonata posso dirle che no signora da donna abbandonata lei mi parla assumendo un'identità della donna abbandonata vede dottore la mia vita me l'hanno rovinata i miei continui attacchi di rabbia io sono un iracondo ma se lei ragiona da iracondo lei non ne uscirà mai quindi qual è la strategia qual è la strategia che posso usare per allontanarmi dai disagi non commentarli non spiegarli non cercare di capirli in questo libro ho cercato di mostrare come il nostro atteggiamento mentale semplicemente spostandosi cambiando possa assistere a guarigioni inimmaginabili a superamento di problematiche che a volte durano anni i nostri disagi non sono fatti per durare anni ma il fatto che ci ragioniamo su che ci pensiamo che li spieghiamo che ne parliamo che capiamo li incolla alla nostra identità io sono quello lasciato io sono quello che non funziona io sono quello che fallisce io sono quello che sbaglia guardare il disagio senza nessuna autocritica è il primo gradino da percorrere per arrivare dove? a un piano della coscienza che guarda in modo differente a seconda di come guardi i tuoi disagi i tuoi disturbi a seconda di come impari a non ragionarci sopra si sancisce o meno il tuo destino il vero problema è che noi continuiamo a dirci come dobbiamo essere come vogliamo essere dimenticando che il disagio invece ci sta avvisando che c'è un'altra meta che non stiamo percorrendo ecco questo libro è dedicato a questo a cosa fare quando soffriamo e a impedire che i pensieri ci impediscono di navigare verso la nostra meta buona lettura grazie a tutti grazie a tutti